Ho sentito che siete speciali, ora me lo dovete dimostrare. Ogni notte faccio lo stesso sogno e poi mi sveglio pensando che non è vero. Non devi chiedere troppo a te stesso, in fondo sei solo una ragazza Michele. Le nostre menti sono in contatto, saprò sempre quando avrai bisogno di me. Adesso ho bisogno di te. Ma tu chi sei? È tua sorella Michele. Sono tua madre. È il mio primo furto. Chissà cosa direbbe mia madre. Quale delle due? Ho bisogno di voi. Cosa devo fare? Voi ha sempre voluto scoprire il segreto della nostra mutazione. Ti hanno imprigionati per anni. Ma adesso siamo uniti. Noi siamo speciali. Il mondo scoprirà di chi è il vero potere. Dobbiamo fermarla. Nooo! 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 Abbiamo un conto in sospeso. Nooo! 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 Grazie a tutti.